Le continue segnalazioni di minoranze e cittadini sulla pericolosità della rotonda nei pressi del Pena Casal Maggiore sono rimaste finora inascoltate. Si tratta di una zona ad alto traffico in cui si concentrano i grandi supermercati, che un tempo era regolata tramite semaforo. La rotonda è stata costruita per far defluire il traffico, ma gli ingressi alle attività commerciali non sono stati progettati pensando alla sicurezza di pedoni ciclisti. Come vedete c'è un camion che sta scaricando in un magazzino commerciale, quel tir prima di entrare nel magazzino entra nel magazzino in retromarcia e prima però si posiziona in mezzo alla rotonda, quindi con le auto dietro e poi indietreggia e quando pian piano indietreggia anche le macchine devono indietreggiare perché lo si sa solo quando mette la retro e allora pian pianino entra nel magazzino. Però è un tir che in mezzo a una rotonda si ferma e fa retromarcia. Noi avremmo bisogno e siamo in attesa da anni e anni di una tangenziale che è già stata anche in parte tracciata, anzi ci sono due proposte diverse progettualmente e questa tangenziale non arriva, qui passano 3.300 camion al giorno. Anche i marciapiedi ai margini dei parcheggi non rispettano le misure stabilite dal codice della strada. I marciapiedi sono completamente, quasi completamente inutilizzabili dai pedoni. Ho misurato perché il marciapiede è 90 centimetri di per sé però ha in mezzo i pali della luce che invece di essere messi fuori dal marciapiede sono stati messi in mezzo al marciapiede. Quindi come abbiamo visto misurando dal palo della luce alla fine del marciapiede ci sono circa 75-77 centimetri quando una carrozzina sia del disabile ma anche della mamma col bambino ha bisogno di almeno 90 centimetri almeno. Inoltre non è stata studiata alcuna soluzione per le biciclette soprattutto nel caso degli anziani che si recano a fare la spesa. Non c'è neanche un paletto di sicurezza che circondi i marciapiedi per lo meno nei punti più pericolosi e quindi è una zona che è poco rispettosa del pedone o della persona anziana che viene qua in bicicletta.